Ti ho scontato a manco, niente di quel teo, e anche un minimo rito. Ora, ora, ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Ora, ora, ora! Ora, ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Ora, ora, ora! 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 Ora, ora! Grazie a tutti.